vista la vostra propensione a sorbirvi voci idiote che vi invitano a consumare merci discutibili visto che accettate di farvi sciorinare cataloghi di puttanate prima e durante i film che è un po come mangiare sugna di maiale fritta prima di colazione gabbiamo deciso anche a noi di farci sponsorizzare da alcune aziende tanto a voi vi basta che non vi fanno pagare e siete disposti a buttare giù qualunque merda commerciale fate perciò con scienza con i nostri sponsor intanto un'azienda moderna impegnata nel sociale la fame nel mondo è un problema drammatico ma diciamoci la verità ce n'è mai fregato un cazzo di qualcosa il nostro vero problema è quale vacata ciucciarci a colazione imbombati anche tu la bocca del stomaco col nostro pandoro sgionfo non domandarci come che è fatto perché se non più ti viene una sincope a il pandoro sgionfo è un tocco di fugassa di pasta ricicciata con la consistenza del multistrato imbombato di ciccolata stomegosa che se ne magni un fetone svomiti fino alla befana di olatte sentiamo dalla viva voce del signor sgionfo che è ancora vivo il segreto di un successo familiare tutto italiano tanto clamoroso quanto inspiegabile quella del pandoro sgionfo è un'idea del mio nonno ringo lui diceva sempre a colazione devi sentirti sgionfo un bel fetone di pandoro sgionfo imbombato nel scodelone di caffè latte e i tuoi problemi passano in un lampo pandoro sgionfo la sana tradizione italiana sulla tua tola non mi stancherò mai di ripeterlo non puoi semplificare se non conosci la complessità abbiamo visto persone stupide occupare posti di grande rilievo personalità alla moda che ci sembravano semplici e invece erano solo stupidi ma vedete lo stupido non è colpa sua non riesce a semplificare lo stupido banalizza molta gente è convinta di amare le cose semplici e invece ama solo le cose banali ma partiamo dall'inizio l'energia costa carburanti alle stelle riscaldare in casa è come avviare una fonderia vigliacca se avessi visto uno che va più piano in autostrada ci fosse uno che lascia a casa la macchina per andare al bar ci fosse un bar con meno dei 24 gradi vigliacca se c'è uno che ha tirato giù due tacche di riscaldamento in casa mai che spostiate di una virgola le vostre cazzo di abitudini va bene meno male che c'è il bonus energia per le aziende energivore e in fondo che cos'è il bonus energia se non il reddito di cittadinanza dei magnaschei bene ai poveracci ci pensa la chiesa ai magnaschei ci pensa il governo e a voi chi ci pensa a voi sta a vedere che la prendete nel culo un'altra volta pensiamo ad altro avete passato un buon natale hai notato che lo dico come in televisione come se me ne ciavasse qualcosa ma cos'è oggi il natale voglio dire cos'è a parte che un modo per spendere aprite i regali ma sapete già cosa c'è dentro li avete presi su amazon perché incartate i regali non ha senso scambiatevi dei link fate prima intendiamoci se c'è una cosa che mi sta sulle balle sono proprio i vecchi che dicono stiamo perdendo le sane tradizioni familiari cosa c'era di sano nel rosolare maiali per ore nel rompersi i maroni a giocare a tombola mi è sempre stata sul cazzo la tombola anche quando hanno cominciato a chiamarla bingo cos'erano le sane tradizioni se non abbattere ettari di pineta per fare l'albero evidente reminiscenza normanna e voi mi direte è il presepe la magia del presepe chiamatemi insensibile ma ho sempre diffidato degli adulti che impiegano tanto rigore nel costruire il modellino di un paesaggio palestinese così pieno di animali incoerenti e poi gli orrendi giochi di società nei quali vecchi dall'erezione improbabile facevano battute sconce alle giovani nipoti le sane tradizioni di una volta lo so adesso si fa fatica a coinvolgere i bambini nei giochi di società perché sono troppo distratti dall'ultima cagata retroilluminata che gli avete appena regalato ma siete voi che gli avete regalato lo smartphone a sette anni il problema siete voi mi dite il natale guardate le città guardate i mercatini le luci sempre più inusitate le vie con le scritte luminose delle canzoni per aria canzoni a volte così banali che se fai la strada al contrario la canzone ha più senso natale è halloween con più elettricità cavala corrente e natale sparisse e voi mi direte ma il natale è la festa dei cristiani si festeggia la nascita di gesù e io vi dico l'avete chiesto a lui no perché non ricordo nessun passo del vangelo in cui qualcuno gli regala qualcosa il 25 dicembre a parte i re magi che se fossero stati magi avrebbero dovuto saperlo che è un neonato non gliene può fregare di meno della mirra dell'incenso dell'oro e di altre facezie simili dice ma quelli sono regali simbolici che si fanno ai re l'oro a valore la mirra l'incenso sono profumi rari e tu regali un deodorante ambientale di lusso a gente che abita in una stalla è come andare da un disoccupato e regalargli una catana storica di valore decorativo cazzo portagli un pacco viveri è più contento ma nel vangelo mai ho letto che giacomo figlio del zebedeo vada a cristo gli dice tanti auguri o cristo eccoti una sciarpa a quadretti mai ho letto che simon pietro abbia fatto fare una torta alla pasticceria di cafarnao mai soffia sulle candeline cristo ma quante sono 33 ma soffia bene se no porta male ah beh lasciamo perdere avete sentito è morta la regina ciò è morta la regina lo ho saputo ho visto che han fatto re uno che par suo nonno onestamente a me delle vicende dei regnanti non me ne c'ava un casso mi dispiacerebbe di più se morisse la nonna di qualcuno di voi però devo dire che la regina elisabetta e mi ha guadagnato un sacco di punti quando gli ha scritto una lettera un bambino inglese che gli dice regina mi regala un cane e la regina gli ha mandato una lettera di risposta dove c'era scritto no questa è una regina cazzo che cazzo vuoi da me sono una minchia di regina ma chiedi al tuo padre il cane che cazzo vuoi questa è una regina comunque lasciamo perdere avete sentito che han fatto il governo nuovo scommetto che non ve ne eravate neanche accorti diciamo che fa le stesse cose del governo vecchio ma gli dà un altro nome ogni volta che pensano una puttanata salvini che forse non ve ne siete accorti ma era anche nel governo di prima scrive è finita la pacchia cazzo per te no che è finita vent'anni a montecitorio a ciucciarti 12 mila euro al mese senza mai aver migliorato di un attacca le cose mi sa che hai più culo che simpatia siete lì che scrivete delle leggi fatte talmente bene che bisogna rifarle ogni volta vabbè ma si sa l'inesperienza altri trent'anni de montecitorio qualcosa si impara magari voi mi direte e la sinistra allora ormai lo sapete come la penso destra e sinistra si distinguono solo per l'arredamento la politica non può fare un cazzo senza il beneplacito dell'economia e cosa resta ai politici se non gli spot i 5 stelle avevano eliminato la povertà ma i poveri non se ne sono accorti questi qua sono più realisti hanno detto la povertà non l'abbiamo eliminata dunque ripristiniamola adesso si vola più basso per esempio si comincia ad eliminare le cose più complicate no non sto parlando dello speed che credo venga eliminato per limitare la blasfemia sentite l'idea di questo nuovissimo decreto abolire i numeri romani da vie e piazze perché troppo complessi ora per capire quanto sono complessi i numeri romani abbiamo chiesto ad un esperto sentiamo quindi l'opinione dell'esperto professor spelling sulla complessità dei numeri romani il sistema di numeri romani poi c'è un pacchettino di difficilissima complessione invece tutti i simboli i romani hanno i simboli tutti per trovare per indicare i numeri i simboli di numeri sono quasi complessibili attenzione perché come fai un romano ad esempio indicare 1 numero 1 un simbolo stranissimo questo qua questo è 1 inaspettato 1 questo qua 1 non c'è 1 c'è questo è 1 1 attenzione perché i arabi per fare i due hanno un altro simbolo un simbolo tutto solo un simbolo tutto per i due i romani no i romani fanno 1 due volte 1 più 1 1 più 1 è 2 ecco qua questo è 2 questo i romani non rispetterebbe mai che i simboli usano le romani per fare 3 ecco qua queste 3 inaspettato le 3 incredibili incredibili allora 1 più 2 più 3 ecco questo è 3 attenzione perché per le vie piasse è importante sapere dei numeri particolari inizio tutto due numeri uno è questo qua uno è questo qua uno è questo qua e uno è cinque 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 c'è questo qua questo è cinque e dopo dieci dieci per fare dieci fa cinque due volte uno sopra e uno sotto e ancora dieci ecco qua dieci dieci cinque dieci cinque dieci difficile difficile adesso mi viene il bello adesso mi viene il bello prendiamo per esempio l'uno l'uno e prendiamo per esempio il cinque come faccio per fare quattro allora per fare quattro io io metto il uno metto l'uno a sinistra dei cinque sinistra sottrazione e uno sottraere l'uno e gli renda quattro cinque quattro diciamo perché se voglio fare sei voglio fare sei il sei adizione a destra a destra c'è un metto da destra metto dopo metto a destra il cinque diventa sei adizione 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 uno ecco quello che dice cinque sei la sinistra sottrazione cinque quattro perché si può fare anche quel dieci si può fare anche quel dieci adizione adizione 10 quindici fare quindici quindici per fare 10 10 più 5 meno uno vedete come è difficile vedete come è difficile è impossibile tenere in piedi i cartelli e non i romani ed è difficile ecco qua ecco qua non riesce a metterlo più più 5 meno uno difficile 10 più 5 meno uno 14 10 più 5 15 10 più 5 più uno 16 poca troie è difficilissimo fare i numeri romani è una cosa quasi incomplicibile guardate che più in là del 31 difficile andare non ho mai visto una piazza 57 luglio cazzo dunque cosa succede succede che questo governo vuole adeguare il paese alla propria intelligenza idiocrasi è sempre più vicina se dobbiamo comunicare in modo sempre più banale se i nostri pensieri sono quelli del telegiornale come possiamo sperare di ragionare vi faccio vedere l'inizio del film baldus che ho appena fatto il linguaggio che parliamo a cui tutti ci stiamo abituando è come una città con le case che crollano i muri scrostati la gente ci abita tutto funziona male ma nessuno ci fa più caso basta scorrere instagram per notare che non vi è rappresentata nessuna realtà guardate che anche a me sono sempre stati sul cazzo i primi della classe quelli che denigrano la minore intelligenza degli altri come se nella loro maggiore intelligenza loro avessero un qualche cazzo di merito ma cedere il potere agli ultimi della classe non mi pare un ideona c'è qualcosa di profondamente sbagliato nell'universo perché a cosa serve l'ultimo della classe quello che sta laggiù in fondo al baratro lontano dall'olimpo dei secchioni e dei leccaculo a costruirsi un futuro di lotterie e di lavori servili serve alla consolazione del penultimo del terzultimo e così via è la stessa funzione dei poveri dei senza tetto dei rifugiati finché c'è qualcuno sotto di noi possiamo boccheggiare tranquilli in fondo alla classifica e ma a meno che tu non sia uno stronzo dovrebbe piacerti una società nella quale quello dell'ultimo banco sta bene come gli altri abbiamo preso l'ultimo della classe l'abbiamo tirato fuori da dietro la lavagna e l'abbiamo messo in cattedra a farci selfie con i prof guardate che quelli che parlano di merito occupano posti per i quali ci vuole più culo che merito è difficile che questi qua affrontino l'amministrazione pubblica con la giusta filosofia sì oggi le discussioni filosofiche sono riservate all'economia oggi un buon governo è considerato un governo che ha dei buoni economisti la politica ha trovato posto tra le zuffe da bar accanto ai grandi classici che dominano i nostri social calcio è figa ovviamente in mezzo a disastri epocali guardare questi amministratori anche quelli volonterosi che tentano di svuotare la sala macchina del titanic col secchio fa tenerezza ma allora cosa può fare la politica se la finanza ce lo mette al culo come se gliel'avesse ordinato il dottore se su dieci persone ci sono cinque sedie hai voglia a chiamare occupabili quelli che restano in piedi ci sono cinque sedie e dieci persone che girano intorno la politica non riesce a fare altre cinque sedie e quindi cosa fa ti fanno girare intorno metti lo speed togli lo speed metti il post togli il post metti il contante togli il contante le code che fate alle poste le madonne che tirate giù nei siti farraginosi dell'amministrazione pubblica servono a farti dimenticare che non hai un lavoro e mentre tu ti permetti di rifiutare un lavoro da 300 euro contro 10 ore al giorno quelli che ne prendono 15 mila al mese e non hanno neanche un titolo di studio ti raccontano la fola che quelli che hanno i schei se li meritano beh alla politica non resta altro che fare battute surreali il tetto al contante l'intervento sul post i numeri romani il ponte sullo stretto la lotta ai cinghiali lo speed cioè banalizzare le pratiche online in quella che è già la nazione più televisiva del mondo battute se fossero meno ipocriti direbbero ragazzi noi non riusciamo a risolvere un cazzo l'unico modo per uscire dalla merda è fare uno sbanderno di nero il sommerso ci sommergerà abbiamo tolto il reddito di cittadinanza ai poveracci per darlo ai baroni ottocenteschi che distribuiscono elemosine in nero per puro gusto retro ma così stanno le cose è solo tutto più creativo detassare le mance ci permette di pagare i camerieri metà in nero come prima portare 5 mila euro il contante ci permette di rimpolpare la montagna di sommerso che questa nazione fa già da sola dice ma in germania non hanno un basso tetto al contante ma in germania le tasse le pagano se non le paghi vai in galera invece qui diamo il reddito di cittadinanza ai ricchi così fanno l'elemosina ai poveri oh siamo d'accordo la sinistra con la scusa della tracciabilità ha dato il culo alle banche il nostro culo però la sinistra ha sempre avuto questo piacerino sottile della sanzione della multa della punizione è tutto molto cattolico la trazione della sinistra per la rottura di cazzo burocratica è pari solo a quella della destra per le puttanate legislative ma tutto il dibattito sul post mi ricorda guida galattica per autostoppisti il capolavoro della commedia fantascientifica scritto da douglas adams chi ha letto il libro si ricorderà che i due protagonisti quando devono abbandonare la terra perché la faranno esplodere per farci passare un'autostrada spaziale consultano la guida galattica la quale suggerisce di portare sempre con sé un asciugamano pensavo che questa cosa dell'asciugamano non avesse alcuna attinenza con la realtà invece di recente ho letto un'intervista fatta a orson wells al dean martin show nel 1968 ve la racconto perché merita dunque la storia è questa il 30 ottobre del 1938 vigilia di halloween orson wells interpreta con gli attori della sua compagnia un radiodramma come già aveva fatto nelle settimane precedenti questo radiodramma è tratto da la guerra dei mondi un romanzo scritto da un altro wells noto autore di fantascienza il radiodramma è realizzato in modo da apparire molto realistico deve sembrare che venga interrotto un programma di musica dal vivo per annunciare che su marte sta succedendo qualcosa di insolito e che sul nostro pianeta stanno atterrando preoccupanti oggetti metallici piano piano si capisce che i marziani stanno invadendo l'america gli americani a casa gente scafata ci credono veramente non proprio tutti quelli che avevano ascoltato la radio diciamo solo 9 milioni di persone tutta gente che vota quando uno degli attori che imita benissimo roosevelt il presidente americano fa un discorso alla nazione dicendo di non farsi prendere dal panico gli americani si fanno prendere dal panico scappano in strada formano code chilometriche con le macchine qualcuno dice di aver visto i marziani veramente questa qua è gente che le scie chimiche roba da ridere e nel 68 30 anni dopo orson wells racconta che molta gente era uscita di casa tenendo un asciugamano sulla testa perché un asciugamano in testa chi gliel'avrà consigliato non stiamo parlando della guida galattica agli autostoppisti stiamo parlando della gente reale è esattamente come fare i dibattiti sui porti sui numeri romani sul post sul tetto al contante tutte misure che significano questo c'è l'invasione dei marziani dunque ci mettiamo un asciugamano in testa perché per gli spot della politica non è importante che la risposta abbia un senso è importante che sia immediata un asciugamano in testa perché intervenire sul miglioramento culturale della nazione è complesso non c'è forse alla base di questa crisi perenne un problema culturale di fondo pensate alle rotture di coglioni a cui saremo sempre più sottoposti altro che speed lo smartphone ce lo siamo già resi obbligatorio da soli ma ormai è chiaro si va verso un app che conterrà tutti i nostri dati documenti i dati sanitari pagamenti eccetera una nazione ben organizzata farà funzionare bene quest'app la nostra nazione pin password dichiarazioni scontrini casse elettroniche giustificativi identificazione in due passi in tre passi in quattro passi a ritmo di danza entri in un sito e prima ti chiedono se accetti una serie di robe che se le leggi tutte ti dimentichi perché sei entrato nel sito ma è quello che vogliono giriamo tutto il giorno intorno alle sedie con questi piragna burocratici che ci addentrano i maroni e che non vogliono mollare perché perché esistono le teste di cazzo questi sono i marziani quelli che ti fottono i portafogli se ti giri quelli che passano di fianco alle codi quelli che fanno i furbetti quelli che se la tirano da hacker e in fondo vogliono solo fottere denaro virtuale per comprarsi un cazzo di televisore da 50 pollici per guardare i film dove i poliziotti arrestano veramente i ladri siamo una nazione piena di ladri che fa comunella con le nazioni piene di ladri e quelli che odiano i ladri che dovrebbero essere i buoni sono violenti la corruzione centrata nel cervello falsifichiamo i certificati fottiamo a destra e a manca questa è l'invasione dei marziani una mancanza totale di senso etico una mancanza totale di rispetto del prossimo un disastro culturale epocale le teste di cazzo hanno invaso il mondo e noi cosa facciamo ci mettiamo la suga mano in testa e diciamo di aver visto i marziani che guarda caso sono proprio quelli che stanno sulle balle a noi e dall'altra parte siccome ci sta sul cazzo la meloni ce la prendiamo con cristina d'avena che canta la festa di fratelli d'italia ma perché prendersela con cristina d'avena ma se a 50 anni cantate ancora occhi di gatto il problema siete voi non è cristina d'avena e poi diciamolo pure cari amici di sinistra se le tasse fossero calcolate in buona fede chi evade le tasse non avrebbe scuse ma le password esistono perché siamo l'idiocrasi realizzata la politica può solo distrarvi può tenervi fermi mentre l'economia vi tira sotto con la macchina può fare quello che ha sempre fatto e cioè un varietà di battute surreali quando sento gente come gasparri come la russa queste creature degli abissi scampate all'estinzione che vanno in televisione a spiegare che la gente comune ha assoluta necessità di tenere 5.000 euro in tasca basta guardarli in faccia li vedi che gli scappa da ridere questi qua scrivono le leggi e gli scappa da ridere per questo le scrivono di merda sono sempre da rifare perché gli scappa da ridere gli prendono le convulsioni e noi passiamo il nostro tempo a scannarci e attifare per i pagliacci del circo buttati in fretta e furia sulla pista per farci dimenticare che il trapezista si è fracassato le costole costole lo sai perché i diamanti costano tutti quei schei no che non lo sai per questo te li fan pagare tutti quei schei perché sei un coglione tu mi dirai che i diamanti sono rari e se io ti dicessi che i diamanti non sono poi così rari tu mi dirai che chi ti vende i diamanti ti dice che sono rari è la nostra parola contro la loro sì ma vedi loro vendono diamanti noi no perché io e te lo sappiamo che se spendi tutti quei soldi per un anellino è perché ti piace la ficca allora ti proponiamo noi qualcosa di veramente raro questo è un frame costa 8 milioni di euro se li può permettere solo un seico tu mi dirai che 8 milioni di euro non te li puoi permettere è per questo che noi ti proponiamo il mini frame 200 euro e passa la paura perché spendere un puttanaio per avere in cambio una fica sola perché lo sai un diamante purtroppo è per sempre mini frame 200 euro e passa la paura allora i social gli intellettuali sui social si scagliano contro i social che è un po' come quei registi che si scagliavano contro la pubblicità durante i film e poi si sono messi a girare pubblicità bastava pagarli insomma si finisce per investire nei tiramenti dei magnaschei anche il proprio tempo e le proprie emozioni e i tiramenti dei magnaschei ce li dipingono sempre più bambini sempre meno responsabili anni a osannare Elon Musk per poi scoprire che è solo un adolescente che pesta i piedi ma mentre voi di sinistra lo osannavate io lo dicevo già nel mio film di un anno fa ma non vi rendete conto che la vostra idea di felicità è fatta solo di catene di schiavitù mi dite la tesla la tesla è solo il parto della mente di un segaiolo guardate tiktok guardate instagram leggete facebook se superate lo sconforto grammaticale e rendetevi conto di chi sono i nuovi idoli delle masse sono adolescenti segaioli che non vedono l'ora di esibire tutti i loro giocattoli prendi per esempio questo qua Andrew Tate ex campione di kickboxing non so quanti anni ha 40 50 ma è un adolescente segaiolo lo vedi uno che ha fatto i soldi tirando calci e pugni e si vanta dei soldi che ha scrive alla ragazzina a Greta Thunberg dice Greta Thunberg io ho 33 macchine Bugatti Ferrari Maserati ma non basta mandami la tua email che ti scrivo la lista di macchine che ho che inquinano l'aria a più non posso e se ne vanta pure e ha un milione di like cioè un milione di coglioni i quali non possono nemmeno permetterci una Clio usata ma che invece di sognare sui pensieri dei filosofi sulle parole dei poeti sognano su un coglione come loro e Greta Thunberg gli risponde educatamente mandandogli anche la mail dice illuminami e la mail è small dick energy chiocciola getalife.com che tradotto grosso modo significa energia dei cazzi piccoli chiocciola fatti una vita.com vedi ti fai prendere per il culo anche dalle ragazzine segaiolo lo stensorio della nuova religione custodisce nell'ombra del tabernacolo informatico la puttanata retroilluminata la puttanata domina la comunicazione contemporanea siccome non siamo capaci neanche di rinunciare a uno smartphone cinese da 30 euro ci tiriamo le seghe con i rocker che spaccano le chitarre sul palco facendo finta di non sapere che se spacchi una chitarra è solo perché te ne puoi permettere un'altra e comunque chitarre ce n'è tante voglio vederlo un violinista per quanto ricco spaccare lo stradivari del 1714 ti immagini un violoncellista lo so mario brunello alla fine del concerto spacca il violoncello in testa agli orchestrali al grido di no future e non è tenera la sinistra che vuole difendere la musica de merda dei rave party come se i rave party fosse tutta gratis no il gatto e la volpe che fanno un sacco de euro in nero no pinocchio e lucignolo che vogliono solo divertirsi alla faccia del pos e mi fa tenerezza quando leggo sul manifesto della poesia del calcio come se pulire gli spogliatoi facesse dimenticare dei quintali di fondi neri che si nascondono dietro le compravendite dei campioni dall'altra parte con l'acutezza di quelli a cui non sfugge niente ci scagliamo contromessi perché lo sceicco gli mette addosso un mantello che è simbolo di potere patriarcale e oscura la santa maglia dell'argentina ma diciamocela tutta se a me dopo una partita di calcio diciamo all'oratorio fosse arrivato il prete e mi avesse messo addosso una stola tutto sudato non avrei capito che cazzo significasse e neanche messi lo sape neanche voi lo sapevate finché qualcuno non ve l'ha detto e allora vi siete scandalizzati ma che cazzo ne sa messi della vita puttanate il vero scandalo è stato fare i mondiali in catar pensa alla nostra nazionale che sensibilità ai nostri calciatori che si sono fatti eliminare apposta pur di non partecipare a quello proprio perché diciamolo pure se la nostra nazionale andava in catar col cazzo che eravate così sensibili alle condizioni della donna alla mancanza di democrazia nei paesi arabi se vinceva facevate i soliti caroselli da patrioti coglioni sì ma non bestemmiamo lo sport unisce perché anche i poveri delle nazioni che partecipano ai tornei si esaltano per le gesta dei loro campioni perché migliorare le condizioni di vita della gente in argentina quando puoi fargliele dimenticare immagina uno smartphone che ti conosca così bene da anticipare ogni tuo desiderio immagina un telefono che predisponga la tua playlist preferita nel momento stesso in cui lo stavi pensando immagina un telefono che faccia tutto quello che vuoi quel telefono non può essere il fat phone flat perché se chiedi a uno smartphone di realizzare i tuoi desideri sei messo tanto male al fat phone flat non interessa quello che vuoi fat phone flat fa quel cazzo che vuole lui ora sembriamo stupirci che esistano politici corrotti ma amici siamo in una democrazia realizzata un popolo corrotto darà vita a una classe politica corrotta pensate ai capi di stato non solo sceicchi ministri industriali finiti nei resoconti dei panama papers due terabyte di documenti che testimoniano dell'epoca corrotta in cui viviamo i marziani sono già tra noi politici imprenditori faccendieri messi hanno beccato anche messi sta a vedere che sta storia del mantello vabbè lasciamo perdere i più grandi pezzi di merda del pianeta sono inchiodati alla memoria futura da questi documenti c'è anche putin ovviamente pare che abbia spostato fondi neri tramite un amico violoncellista ma perché putin ha questo qua e io invece conosco mario brunello vabbè lasciamo perdere i peggiori ovviamente sono gli amministratori pubblici quelli che trasformano le tasse della gente in fondi privati intendiamoci il mondo non è cambiato come dimostrano i sacchi di soldi ai deputati europei qualcuno si è dimesso qualcuno è rimasto lì diciamo che abbiamo scalfito di striscio un torrione delle forze del male ma le forze del male sono rimaste lì belle fresche come una rosa perché vi parlo dei panama papers in un giorno così gioioso questi fetentoni erano migliaia migliaia di pezzi di merda che si compravano coi soldi degli altri un angolo di paradiso nascosto agli occhi dei poveracci ma proprio dietro l'angolo un angolo dietro l'angolo capisci un angolo presidiato dalla criminalità c'era di tutto in quei due terabyte ma non c'era un solo italiano pensa adesso sti due del pd che si sono fatti beccare dilettanti cazzo ci hanno rovinato il record ma perché nei panama papers non c'era neanche un italiano all'estero avranno pensato che siamo diventati onesti ma noi lo sappiamo che non è possibile a noi se ci danno degli onesti ci offendiamo noi la sera ci guardiamo allo specchio e ci scappa da ridere ma noi non risultiamo in quelle carte perché ci siamo già passati non ci fidiamo più tanto dell'offshore e abbiamo intrapreso la strada della legalità perché rischiare con una società offshore quando puoi fare quasi la stessa cosa con una fondazione il fatto è che noi ci annoiamo e siamo macchiavellici anche quando ci piace il sangue anche quando siamo assassini ci piace farlo con ragionamento non so se qualcuno sa di un fatto accaduto una notte d'agosto del 1572 passata la storia come la notte di san bartolomeo il mio amato marlo ne ha scritto un'opera intitolata il massacro di parigi ebbene in quella notte nella sola parigi i bravi cattolici francesi hanno massacrato 3.000 calvinisti al grido di viva la messa nel nome del padre e del figliolo e del figlio canto mori mio caro nelle settimane successive la mattanza si è spostata nelle campagne e pare che alla fine siano stati massacrati 30.000 calvinisti che avevano la colpa di non andare a messa e così la francia è rimasta cattolica vedi che con ragionamento si riescono a convincere le persone si dice che ricevuta la notizia il papa a roma abbia fatto la ola da solo ma chi c'era a governare la francia in quella notte carlo nono certo o per il governo carlo nove ma lui si occupava prevalentemente di andare a caccia chi gli firmava le giustificazioni era la mamma caterina de medici da firenze era lei il vero leader astuta macchiavellica anche nello splatter ci metteva dell'arte pare che abbia fatto assassinare la regina madre di navarra che era ugo notta tramite il suo profumiere di fiducia uno che lo chiamavano rené ma in realtà si chiamava renato il quale le porta in dono un paio di guanti profumati all'epoca la roba di cuoio si profumava perché sapeva di bestia marcia regina madre vogliate gradire questi guanti in segno di ossequio sentite che fragranza buono questo profumo tanto intenso però morta la veccia brava caterina orgoglio nazionale il tè al polonio era roba da ridere e a proposito di polonio non capisco perché non siamo scesi in campo per interrompere l'assurda guerra avviata da putin il noto cagacazzi internazionale di cui erano fan tre politici che non nominiamo perché il forte sospetto che nei panama papers ci fosse anche lui c'è e comunque è evidente che è attratto dal marciume ma perché allora noi italiani che siamo la massima autorità in materia corruttiva che potremmo dare lezioni al sud america non ci siamo presentati all'appello mettendo in campo la nostra arte mi rendo conto che non sono più i tempi di berlusconi che risolveva tutto con la fregna quando il truce putin diventava un gattino e si faceva i selfie sul lettone peggio della peggio zoccola di instagram ma su via un po di iniziativa e a proposito di battute surreali devo dire adesso che salvini ha ritirato fuori per l'ennesima volta la puttanata del ponte sullo stretto devo dire che non son più tanto in disaccordo con berlusconi presidente della repubblica ma sì basta con questa ipocrisia di eleggere gente onesta alla guida di una nazione di corrotti chi meglio di lui saprebbe rappresentarci sarebbe perfetto un popolo di fan della truffa rappresentato da uno che ha truffato il popolo neanche la guida galattica per autostoppisti riuscirebbe a prevederlo ma voi mi direte adesso che destra e sinistra sono costretti a fare le stesse cose che è difficile distinguerle come diceva già gabber tanti anni fa beh in effetti la differenza è minima la destra è un po più divertente ma anche la sinistra se si impegna e poi oggi c'è tutta una comicità bipartisan pensa all'economia battute fulminanti come mercato responsabile economia sostenibile finanza etica da un lato il trionfo dell'ossimoro diciamo tutto quel mondo che parla di correttezza ma intende indicare il modo corretto di buttarla al culo al prossimo dall'altro lato la facilitazione la semplificazione la banalizzazione che come un massivo l'etamaio globale sovrasta ingloba corrode quel piccolo origami in carta di riso che ci ostiniamo a chiamare chiarezza che poi è un altro modo per dire onestà e il discorso finisce qua sì il discorso finisce qua ma lo so già che direte ma come mai ma solo cose negative ma sarà successo qualcosa di buono nel 2022 certo che ci sono anche le buone notizie ve ne leggo una per tutte riccardo fogli bestemmia al grande fratello vip bravo riccardo vi lascio con un appello del professor spelling il terreno palazzo non è pagato da nessuno se non dal suo pubblico non si fa foto di pubblici non fa pubblicità di nessuna merce ha sempre pisciato che si è spettito e per questo che a differenza di molti candidati dice tutto quel cazzo che gli passa per la testa se voi aggiungere l'arte di Natalia Palazzo continuare a vedere il libro e vedere i suoi film a bordo di Circo Palazzo puoi abonarti anche solo per un mese vai su www.circolopalazzo.it tu vai potrai trovare quel nuovissimo film bonus con Natalia Palazzo e Marta Cortana Sofiello grazie a tutti Grazie a tutti.